Quattro e enda. Ciao e benvenuto a questo video dove parleremo un po' di qualche applicazione del workout che abbiamo visto in diretta mercoledì scorso, il workout binario in particolare. Sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente e vorrei farti vedere alcune idee che potrebbero ispirarti per lavorare un po' con degli esercizi che apparentemente potrebbero sembrarti sterili o fini a se stesso, usarli invece sulla batteria. I workout che facciamo ci servono per tenere le mani allenate, per costruirci a memoria motoria, ma poi se non li usiamo non hanno nessun senso. Per cui adesso vorrei farti vedere alcune delle decine di idee che potresti applicare sulla batteria. Ok, voglio solo farti vedere un esempio, non voglio farti vedere tutto l'esercizio applicato alla batteria, voglio solo darti un'idea che potrebbe fartene venire anche a te decine. Dopodiché vorrei che registrassi in pratica un video, anche con lo smartphone, senza nessuna velleità tecnologica, e lo condividessi all'interno del gruppo strumenti per il batterista intelligente. Prendi lo studio 1 della unit 5, quello studio in cui tu esegui tutto il basic bin con una mano sola, ok, accentando con la Müller. Come esempio ti faccio semplicemente i primi due gruppi, il gruppo da 2 e il gruppo da 3. Quindi il gruppo da 2 abbiamo detto che fa, sui sedicesimi, 1, i, enda, 2, i, enda, 3, 8, i, enda, 1, i, enda, 1, i, enda, 1, i, enda, 1, i, enda. mi fermo qui adesso andiamo alla batteria e ti faccio vedere qualche idea fondamentalmente seguiamo due percorsi quando prendiamo uno schema ritmico e lo applichiamo alla batteria percorso 1 è applichiamolo a un groove percorso 2 applichiamolo a un fill per esempio in quello che ti ho fatto vedere prima sul pad e applicato al charleston avrò 1 i enda 2 i enda ora vediamo come posso applicare questo down up down up down up o la versione successiva up down up down a un groove decido che il mio groove è questo 1 i enda 2 i enda 3 i enda 4 i enda sovrappongo l'esercizio fatto con la mano destra col mio arto forte sul charleston e diventa così 3 i enda 4 i enda provo a fare lo stesso lavoro con il gruppo da 3 attenzione che il gruppo da 3 siccome in tre quarti me lo trovo a imbattere sull'uno sul quattro poi devo andare alla battuta successiva me lo troverò a imbattere sul tre la battuta successiva me lo troverò a imbattere sul due e poi ritorno da capo ok perché va avanti in tre quarti 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 per cui devo contare bene ad alta voce per non perdermi quindi sarebbe così 3 i enda 4 i enda come film potrei esattamente spostare l'accento del gruppo da 3 invece che tenerlo qua lo sposto sui tom ricordati ho quattro accenti prima che ritorni in battere quindi avrò 3 i enda aggiungo il groove 3 i enda 4 i enda ok ti ho fatto vedere due semplici applicazioni alla batteria del primo esercizio della unit 5 cioè quello che esegue gli accenti solo con una mano adesso sta a te postare un altro video con un'applicazione diversa da questa che ho fatto io per esempio potresti usare la mano sinistra che fa l'accentazione del gruppo da 3 per esempio mentre con la mano destra tengo gli ottavi in pratica l'esercizio numero 1 invece che a sedicesimi ottavi cioè down up down up invece che essere one i enda two i enda il movimento è lo stesso down up però lo seguo a ottavi metto la cassa sui quarti il charleston in levare e poi con la mano sinistra eseguo il gruppo da 3 è un'idea così la butto lì adesso tutto qua puoi svilupparla spostando gli accenti sui tom ma non vado avanti sta a te ci vediamo nel prossimo video ciao ciao